Buongiorno una sera ragazzi, buongiorno. Scusate ma oggi ho veramente poca voce perché ieri alle cascine comunque al di là del risultato che non è andato assolutamente come speravamo però ho urlato a squarciagola per cercare seppur da lontano di sostenere la squadra e poi comunque portato appunto dal trasporto del tifo che ieri chi c'era può confermarlo è stata una cornice fantastica saranno state 3.000 persone veramente bellissimo bellissimo purtroppo volevamo finisse in una maniera diversa che dire una partita dove si hai fatto la partita una partita dove ti dico anche che l'hai dominata dove hai fatto più tiri in porta dove sei andato più volte in area di rigore però ragazzi conta buttarla dentro e noi ci siamo riusciti loro due tiri due gol Lautaro ragazzi purtroppo è un attaccante che noi non abbiamo è il genere di attaccante che te cerchi da un anno e mezzo e che purtroppo non hai poi sicuramente cabral iovic avranno avuto i suoi quame avranno avuto i suoi momenti positivi e sicuramente nel corso dell'anno l'abbiamo sostenuto e abbiamo abbiamo sicuramente esultato ai loro gol però ti manca quel tipo d'attaccante là è chiaro che vabbè ce l'avevi perché vlaovic ovviamente era una tipologia d'attaccante che ti risolveva le partite anche giocando male così come come all'inter con Lautaro ieri non ha giocato l'inter una grande partita non è stata sicuramente la la squadra dominante e l'approccio mentale che avevi avuto te era ottimo era stato ottimo perché passare in vantaggio dopo tre minuti contro una finalista di champions league in una finale vuol dire che te la vuoi quella finale te stai morendo dalla voglia dalla fame di volere quella finale e quindi io io non me la sento neanche di rimproverare questi ragazzi io ieri veramente ho fatto anche una diretta su instagram dove mi sono scusate il francesismo mi sono veramente incazzato perché dopo un trasporto di emozioni leggere ma italiano ha sbagliato questo non abbiamo gli attaccanti hanno fatto pena non abbiamo la difesa via rivoluzione ma questa società si deve frugare cioè i soliti discorsi di chi non ha argomentazioni se non remare contro tutto 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 tutta la squadra tutta la società dopo tutto quello che è successo quest'anno quello ieri non ho retto di solito non me ne frega me ne frega fino a un certo punto li leggo e ci passo sopra ma ieri non ci potevo passare sopra perché ieri ragazzi l'hai visto anche te che ieri la fiorentina voleva portarsi a casa questa finale ok e te hai perso contro una finalista di champions league una delle due migliori squadre al mondo europee e al mondo quindi l'inter può aver avuto un anno che non è magari quello insomma in linea con le aspettative però non si può dire che una grandissima squadra cioè ragazzi non si può dire non è una grandissima squadra e anche ripeto anche quando gioca male te la risolve la fiorentina non ti dico affatto anche troppo perché effettivamente fanno girare le scatole anche questi discorsi però la fiorentina ieri io non ho assolutamente niente da rimproverarle assolutamente se non ovviamente non aver concretizzato ma queste sono cose di campo non aver concretizzato le occasioni che gli sono presentate davanti prima con cabral che per me ieri veramente non ha toccato palla e poi con jovic che vedremo a fine stagione cosa fare con questo ragazzo ma ieri purtroppo le uniche occasioni che ha fatto che ha avuto se le se le mangiate poi è vero ci sono stati dei cambi come quello di sottille che non hanno prodotto risultati è vero mandragona anche lui magari non ha portato non ha alzato il baricentro però ragazzi io vedo a vedevo anche a un certo punto una fiorentina che non ce la faceva più presa anche dalla frustrazione perché poi in 10 minuti 15 minuti ti ribaltano un risultato e ti taglia le gambe ragazzi questo non so il basilea ok cioè per quanto riguarda per quanto tutto il rispetto da portare al basilea alla competizione della conference però cioè questi se ti ribaltano il risultato la chiudono lì e cioè si chiudono dietro e si sanno chiudere e finisce lì la partita infatti è finita così distrazioni difensive classiche purtroppo io l'avevo chiesto in questi canali che non ci fossero però ragazzi è così prossimo anno vedremo da dove ripartire però ragazzi e ancora ci manca una finale probabilmente sì quest'anno la tua dimensione è quella di fare il tuo fare il tuo vincendo la conference league per molti è snobbata ma è comunque un trofeo europeo e a vincerla sicuramente darà grande soddisfazione e grande gioia ai tifosi della fiorentina io ti dico te lo dico ora perché è finita cioè io tra la coppa italia e la conference preferivo la coppa italia per tutta una serie di cose per tutto uno storytelling che c'è dietro da ovviamente di chiudere il cerchio da da genni la carogna a tutto quello che si è subito negli anni successivi alla perdita umana di un capitano alla quasi serie b insomma in coppa italia nessuno ti avrebbe detto nulla perché poi ovviamente andavi anche a battere la finalista della champions league quindi ovviamente io tra le due preferivo la coppa italia però c'è chi se ne frega nel senso a me basta basta alzare un trofeo io sarò assolutamente entusiasta il 7 di giugno se riusciremo a vincere e ne sono convinto secondo me riusciremo a vincere questo trofeo e poi che dire vedremo ripeto dal prossimo anno vedremo dove dove da dove ripartire quelli sono quelli che sono i tasselli che stavolta mi auguro siano colmati da su cui appunto intervenire e lo sappiamo l'attacco su tutti ma ma anche la difesa probabilmente il portiere probabilmente il centrocampo specie se andrà via ambrabat bisognerà fare qualcosa sono tutti discorsi che andremo a affrontare io quello che vi chiedo ragazzi è di non smettere di sostenerla adesso perché mancano due settimane sono due settimane importanti certo sabato contro la roma cazzo se ne frega diciamoci la verità chi se ne frega del sassuolo perché tanto ormai sta juve non gli fanno nulla ma c'era da aspettarselo ti immagini che la juve la tolgano dalle competizioni europee ma sia mai ma sai quanti soldi girano dietro alla juve ma c'era la favoletta che ci si raccontava noi ma era impossibile e sarà impossibile quindi adesso la preparazione il focus è solo su sulla partita di Praga orgogliosi di giocarla e saremo ancora più orgogliosi di vincerla però ragazzi davvero stiamo uniti perché perché i ragazzi ieri hanno dimostrato anche tanto tanto attaccamento cioè l'immagine di Biraghi avvolto nei colori di Firenze che piange è veramente emblematica cioè veramente è un'immagine che mi ha fatto male mi ha fatto male per il ragazzo per la squadra e soprattutto perché ti fa capire mi ha fatto male nel senso positivo ti fa capire quanto questi ragazzi tenevano a questa competizione e a portare una soddisfazione ai tifosi ai propri tifosi lo stesso Nico Gonzalez che comunque applaudo Lautaro per averlo consolato insomma tante cose io non penso alla partita di ieri come a un brutto ricordo per me anche per come si è vissuta a Firenze dopo così tanti anni per me è un bellissimo ricordo purtroppo volevo che l'epilogo fosse diverso ecco semplicemente questo va bene ragazzi il pagellone ovviamente non c'è perché perché ieri sono tornato alle due in realtà e poi perché è immeritato cioè che pagelle dai lo sapete però ecco ci tenevo a fare questo video soprattutto per rinnovare ecco la richiesta di affetto verso questa squadra e di unione spero mi auguro ma quasi sicuramente succederà che il 7 ci apriranno anche lo stadio quindi io mi vedo festeggiare il 7 dentro il nostro stadio dopo tanti anni un trofeo europeo quindi non vedo l'ora non vedo l'ora forza viola e JM